Donato Civitella, Presidente dei Periti Agrari della Provincia di Chieti, dell'Ordine dei Periti Agrari della Provincia di Chieti. Come si sente coinvolta la vostra organizzazione in un argomento così delicato? Allora, questo argomento è importantissimo per la nostra categoria professionale, perché da anni il nostro ordinamento prevede, tra le nostre mansioni, il controllo della sicurezza verso le aziende agricole. E quindi da anni ci battiamo su questa problematica che investe la sicurezza appunto degli operatori agricoli in questo settore. Molto molto importanti, infatti sono gli infortuni che avvengono giornalmente presso queste aziende agricole e i nostri tecnici sono sempre impegnati costantemente nel monitorare, nel controllare la sicurezza nelle aziende. Naturalmente il nodo cruciale della situazione è la sensibilizzazione delle aziende nel loro coinvolgimento verso questa tematica molto molto importante. Un pensiero va a chi si sta per diplomare, che diventerà perito agrario, ma nei programmi scolastici ci sono questi argomenti? Nelle scuole si inizia a parlare di questa tematica, infatti già la nostra scuola, l'Istituto Tecnico Diario di Scerni, da qualche anno, ha iniziato un percorso formativo e dei convini, dei seminari che fanno annualmente e investono questa problematica. Le ho chiesto questo perché proprio il vostro contatto con gli operatori può portare ad una sensibilizzazione maggiore? Certo, infatti gli alunni che frequentano l'Istituto saranno per il nostro futuro i portatori di interesse e quindi gli attori principali della tematica.